Un bel gesto da parte del Leoclub Vallo di Diano che sabato scorso ha fatto un'importante donazione alla Croce Rossa italiana Sezione di Polla, impegnata costantemente sul territorio nell'assistenza ai cittadini, anche e soprattutto in questo momento di pandemia. Sabato 23 gennaio dunque il Leoclub Vallo di Diano ha donato alla Sezione di Polla della Croce Rossa un kit personalizzato necessario per la formazione del personale e per fronteggiare le eventuali emergenze. In particolare il kit è composto da materiale volto al potenziamento delle dotazioni della Croce Rossa di Polla e contiene tra le altre cose due manichini per le esercitazioni e una valigetta con materiale vario di assistenza, oggetti dunque utili sia per la formazione del personale che per far fronte alle situazioni di emergenza che potrebbero presentarsi. Questa donazione, fanno sapere dal Leoclub, è stata possibile grazie ad una raccolta fondi nell'ambito del progetto Leo for Safety and Security, che mira proprio a potenziare equipaggiamenti e attrezzature in dotazione agli enti di primo soccorso locali, al fine di rendere il personale pronto a fronteggiare correttamente le emergenze. Onorati, affermano dalla Croce Rossa di Polla, ringraziamo di vero cuore il Leoclub per aver voluto donare a noi questo materiale importante sia per il primo soccorso che per la sensibilizzazione e la formazione sulle manovre salvavita. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto concludono speriamo di riuscire ad organizzare dei corsi di informazione e formazione il prima possibile.